La Coppa del Mondo Natura FIAP è uno dei più importanti concorsi di fotografia naturalistica. Si svolge a cadenza biennale e nelle ultime due edizioni è stata vinta dal chiavarese Marco Merello insieme alla squadra italiana. Un risultato importante frutto di sacrificio e di una grande passione per la fotografia e per la fauna vicola. Lo segreto principale di questo tipo di fotografia è la pazienza e la perseveranza di andare perché non è che dici o mezz'ora vado a fare... No, devi andare a postarti, ad esempio gli svassi maggiori, parto la mattina alle 5, torno la sera, mezzanotte a casa e delle volte con qualche scatto bello, delle volte senza scatti belli. Tra i luoghi prediletti per gli appostamenti nel Tigullio c'è l'osi faunistica alla foce del fiume Entella, ma non di rado è necessario mettersi in viaggio per seguire le migrazioni degli uccelli anche fuori regione. Il fine della foto per Marco è di restituire allo spettatore una sensazione simile a quella che si può avere vedendo l'animale in natura. In una foto cerco di proporre a chi la guarda, poi le emozioni che provo io quando vedo questi uccelli qua in libertà, questi animali in natura in libertà e poi cerco anche di una sensazione che provo io quando scatto questi animali che sono uno spettacolo perché si impara tante cose in questo tipo di fotografia. Le due foto con cui ha vinto quest'anno cosa ritragono? Ritragono una scarza ciuffetto che ho fatto su a Parma con un pesce in bocca e una cinciarella che è attaccata a un cacco, però sembrerebbe una cosa banale, però farla pulita così con lo sfondo pulito ha un dettaglio non indifferente, poi vedi proprio sta cinciarella che gli piace, la vedi proprio godoriosa su sto cacco e ha fatto un buon successo anche con l'Adi.